Hai seguito l'ultima puntata del grande fratello? Se sì, sicuramente avrai notato la tensione tra Sergio e Greta. Pare che la vicinanza tra i due stia creando qualche attrito. Mentre Sergio sembra essere interessato a qualcosa di più dell'amicizia. Greta sembra non essere sulla stessa lunghezza d'onda. Recentemente, durante una discussione, Greta ha fatto notare a Sergio che ultimamente sta trascurando le attenzioni nei suoi confronti. Un piccolo gesto, come non chiamarla a cena quando il pasto era pronto, è stato sufficiente a scatenare un litigio tra i due. Greta ha dimostrato di dare importanza a gesti che per lei sono significativi. Durante un momento di relax, Giuseppe e Letizia hanno fatto delle ipotesi sugli inquilini e hanno nominato proprio Sergio e Greta. Pare che la tensione tra i due sia palpabile. Tanto che Alessio ha scherzato con Sergio sul suo stato d'animo. Ma quest'ultimo ha reagito in modo serio. Inoltre, Sergio è stato sorpreso mentre rivelava a Greta che molti inquilini parlano male di lei dietro le sue spalle. Questo comportamento non è stato ben visto da tutti, suscitando critiche da parte di alcuni coinquilini. Insomma, sembra che la situazione tra Sergio e Greta sia tutt'altro che serena. Chissà come evolverà questa storia all'interno della casa del grande fratello. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti su questa vicenda. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti su questa vicenda.